Ancora 3.000 in salita Andiamo a vederci la cima dell'Entelao Cimentelau Il cristallo Il cristallo Il cristallo La nord della Grande Con la via Comici E il dietro della Dulfer E il cristallo Si dovrebbe vedere il rifugio a fonda sabbia Eccolo là Il lago Vandelli Faloria Certo che sembra uno zaffero incastonato nel verde Guarda che spettacolo C'è un'alliante Che sta arrivando dal seguente Allora vediamo se riusciamo a incadrare un attimo la north Qui sotto c'è il rifugio Tissi Quello lì E questa è la bellissima nord del Ciletta Spettacolare C'è un'alliante C'è un'alliante C'è un'alliante C'è un'alliante Altopiano Altopiano delle pale Di San Smaor A ore 1 E ore 2 La pale di San Martino Siamo sopra la cima del Toro Non si sale Cima di Manstorna Cima Canali Cima di Manstorna Cima di Manstorna Sì Cima di Manstorna Cima di Manstorna Sulla verticale del dal piazza ci giriamo e andiamo verso il sole. Sulla verticale del dal piazza ci giriamo. 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 Delta 49 ha liberato. Grazie a tutti